Allora io non mi azzardo neanche a pronunciarla la frase, diciamola bene, voi che siete autoctoni, come si pronuncia? La festa della crescita saicucone. E li accogliamo con un bel applauso! Le Marche e la provincia di Peso Urbino sono ricche di tradizioni e specialità gastronomiche che segnano le ricorrenze e caratterizzano il territorio. Una di queste è sicuramente la crescita al formaggio, che ora si trova abitualmente in commercio nei forni, ma che un tempo si preparava e si consumava solo nel periodo pasquale. Montegiano, una frazione di 200 anime del comune di Monbaroccio, vanta una festa dedicata a questa specialità da abbinare ad un'altra icona pasquale, le uova. E così, il fine settimana del 30 di aprile, il borgo si è vestito a festa ed ha accolto turisti e locali per la settima edizione della festa della crescita saicucone. Allora, noi adesso tenteremo di estorcere la ricetta, perché è quella che noi vogliamo sapere. Noi la ricetta non la diamo! Come non la dà? No, no, no! Ma io sono venuto a posto, voglio sapere la ricetta! Eh, diremo gli ingredienti che mettiamo nella crescita di Pasqua. Vabbè, allora rimaniamo con gli ingredienti, poi dopo la fantasia se ne andiamo con le quantità. Ognuno le quantità, poi specialmente sale e pepe, ognuno mette quello che vuole, perché quelle sono cose molto gestibili. Perché le quantità sono importanti per dare il sapore, ognuno la personalizza. E ognuno la pensa come vuole lui. Allora, gli ingredienti sono le uova, quelle buone, il formaggio quello buono, il parmigiano reggiano, poi abbiamo l'olio di oliva extravergine dopo qui dalla zona, e poi la farina, le spezie, diciamo la saporita, il pepe, il sale, il lievito, e basta, e impastiamo. E impastate, c'è l'impastatrice, qui insomma, ora avete capito, avete preso carta, penna e calamaio, come si dice? Per scrivere? Per scrivere. Almeno gli ingredienti. Almeno gli ingredienti, va bene, comunque è buona, almeno. Va bene, va bene. Andiamo... Poi a qualcuno, chi vuole daremo anche le quantità. Va bene, adesso se venite... Non siamo così cattivi, no? No, 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 va bene. Qui a Montegiano sono bravi, disponibili. Montegiano c'è. Montegiano c'è. Montegiano c'è. Allora, vabbè, soprassediamo sulle quantità degli ingredienti, però vi assicuriamo che l'odore che si sente qui è buonissimo. Il colore. Il colore. Adesso la facciamo vedere. Allora, quante ne state preparando? Abbiamo fatto 250 uova. Ecco. Praticamente un 50 pizze a secondo della misura. Diciamo da un chilo e 7,5, più o meno così, insomma. Con cosa si abbina? Ah. Ah, apriamo un mondo qui adesso. Un mondo. Un mondo. Con il salame, diciamo proprio, numero uno. Ok. L'uomo sodo che è il cucon. Il cucon. Nella nostra, proprio della zona. E che io infatti volevo chiedere appunto. Cue il cucon? Esatto. Come? Il cucon? No, quello che hai detto prima. Cue. 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 Lino, mi fai morire. Io voglio capire. Cosa è il cucon? Il cucon. Allora, il cucon è l'uovo sodo. Oh, l'uovo sodo. Hai visto? E quindi l'uovo sodo. Con la crisi. Però salabini con un pochino di salame, dai. Non facciamo dispetto a nessuno. Poi va bene con tutto. Con tutto, insomma. È comunque salato, come abbiamo capito che è salato. Sì, sì. Quindi con tutto il salato. Con tutto il salato va bene. Ok, una sudata qui. Fatica, eh? Sì, sì. Va bene. Qui vi stanno aspettando e vi aspetteranno anche l'anno prossimo perché naturalmente questa tutti gli anni andrà in scena questa bella sagra paesana con questo bellissimo esemplare. Esemplare di gusto, di colore, di sapore, di bellezza, di tutto quello che ci dà la natura. La crescia. C'è? Monteggiano c'è? No, tempo! E in questa sagra di paese naturalmente il folclore è il perno centrale e quando si parla di folclore si parla anche di musica e di balli folcloristici, balli popolari. Che balli eseguite voi? Noi di tutto e di più, tutti i tipi, i nostri marchiciani e anche fuori del regione. Soprattutto il ballo caratteristico nostro è il saltarello, il saltarello marchiciano, ma come avevo già detto precedentemente ai ragazzi che stavano imparando il nostro saltarello, i saltarelli ce ne sono tantissimi. Esatto. Adesso magari se poi ci sono i ragazzi che gli fa vedere un giretto del saltarello, in modo che potete vedere anche voi. Da dove venite? Noi siamo, lo posso dire, il gruppo folcloristico Li Matti del Montecò. Matti è un uomo in garanzia. Va bene. Però non siete tutti, siete di più. No, no, noi questa è una piccola parte perché come diciamo come gruppo siamo una trentina di componenti, abbiamo anche i bambini piccoli che cerchiamo di fargli rivivere le nostre tradizioni tramandandole, sì, e saremo una trentina di componenti. Questa è una piccola parte che appunto per queste sagre si riesce a muoversi meglio, a gestirla meglio. Quindi la tradizione, i balli, siete venuti a Montegiano. A Montegiano, sì, ci hanno interpellato e noi dove ci chiamano, qualsiasi festa che si fa si va volentieri perché si cerca di tirare, far ridere soprattutto. Esatto, perché voi accompagnate i balli con alcuni apostrofati, alcuni, insomma, ti divertite. Sì, sì, noi oltre al saltarello che comunque è il ballo tipico marchiciano, è un ballo che praticamente prima serviva a fare l'approccio, lo scopo era quello, no? C'erano tante occasioni, il ballo di paese era il momento. C'erano tante occasioni, il ballo di paese è un ballo di paese. Allora, Montegiano, piccolo borgo, ma di grande sostanza, visto quello che esprime in questa festa. Montegiano, come dice, Montegiano c'è, Montegiano c'è su serio, perché Montegiano è bella, Montegiano è viva e Montegiano, come dire, è tutti noi. Grande territorio e quello che conta sono le persone, perché il territorio potrebbe essere bellissimo, anche più bello di questo, ma se non ha le persone che gli danno valore non vale nulla. Qui abbiamo le due cose messe insieme, abbiamo un gran bel territorio e abbiamo tanta brava gente che si dà da fare. Poi è chiaro, se fosse anche aiutato un pelino di più dal tempo non costerebbe, però, 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 come si dice, noi stiamo sulla breccia e quindi continuiamo a lavorare, loro continuano a lavorare e Montegiano comunque è un punto che merita di essere visitato, perché è una realtà fantastica, c'è poco da fare, veramente fantastica. E' un territorio che si racconta non solo con il territorio, ma anche con il territorio con le sue tradizioni gastronomiche e di territorio, ma anche con le immagini, con le immagini che ci riportano a un tempo che fu. Una bella mostra qui a Montegiano per questa festa della cresce a Saikukon, una, insomma, mostra fotografica curata da? Francesca Fabri, che sono una componente, lo stesso, una volontaria dell'associazione Montegiano C'è. Col contributo, naturalmente, di tante persone che hanno dato il loro apporto, insomma, però tu hai avuto il compito di metterle insieme, raccogliele. Che cosa raccontano queste immagini? Allora, le immagini raccontano vari momenti della vita del paese, dagli anni 50 in poi. Sono appunto diversi momenti, dalle scene di famiglia, come magari, ecco, sono queste immagini qua, alle vite, ai momenti di vita del paese. Ci sono poi delle immagini del lavatoio che sono per noi importanti perché ci, oltre a tramandarci come era il lavatoio una volta, anche le usanze del tempo, poi anche delle scene dei matrimoni, dei momenti di vita religiosa, insomma, del posto. Una volta, non è come adesso che si fa una foto per qualsiasi cosa, anche per quello che mangiamo, insomma, con l'avvento degli smartphone, insomma, siamo diventati dei fotomaniaci. Una volta, quando si faceva la foto, si faceva la foto, soprattutto in posa, quindi si racconta anche questo modo diverso di vedere le cose. Sì, ci sono due tipi di foto. Una è quella impostata da fotografo, quindi fate gli studi proprio dei fotografi, e lì si vede proprio la scenografia, molto impostate. Invece altre foto che sono più di vita quotidiana, più immediate, sono diverse, insomma, si vede proprio un'altra mano. Un'altra mano. Allora, noi, se l'operatore Fabio Turiani fa una stretta qui su questi volti, insomma, guardate la seriosità proprio delle persone. Qui sono anni 1916, qui siamo negli anni 30, 35, 36, insomma, vedete, in posa, veramente strutturati. Ecco, era la fotografia dal fotografo, quella che radunava tutta la famiglia, che poi sarebbe stata tramandata ai parenti, ai posteri, insomma. Però è bello ripercorrere la storia di un paese anche attraverso questi scatti, che ci raccontano come si viveva una volta. Sì, è comunque un'emozione, sia per noi che oggi vediamo queste cose che magari non abbiamo vissuto, sia per la gente che invece, a distanza di anni, ritrova nel tempo alcune usanze, alcuni momenti di vita che ha vissuto e persone che magari oggi non ci sono, ma che si ricordano con piacere. Bene, allora, l'associazione Montegiano C'è, ma la mostra fotografica si chiama? Montegiano C'era, perché un tempo eravamo qua, i nostri parenti, i nostri amici, e quindi se oggi ci siamo è perché qualcuno c'è stato prima di noi. Allora, è stata dura? Una bella pedalata. Cosa avete fatto? Io non sono del posto, quindi ti sa raccontare meglio il mio collega. Vabbè, però vedo che gli strumenti sono adatti. Sì, sì, naturalmente ci vuole l'attrezzatura giusta. Allora, vieni qui, insomma, dove siete andati a scarpinare? Allora, sul Monte della Matera, fino alle Antenne, e poi siamo scesi giù fino all'agriturismo Fratelli Nobili, poi siamo risaliti fino ai Due Abeti, Monbaroccio, poi il Pontaccio, e poi siamo ritornati qua. Quanti chilometri? 25. 25, è una cosina così, però insomma, su e giù. Su e giù, abbastanza, esatto. In Lilia Retta sarebbero un po' il doppio, più o meno. Sì, esatto. Tecnicamente. Tecnicamente, insomma. Adesso, adesso... Comunque, c'era un ottimo ristorante. Sì? Sì, sì, esatto, ci ha ristorati. Sì, esatto, ci ha ristorati. L'organizzazione, complimenti comunque. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi che l'hanno organizzata, una bella festa, un bel giro. Ecco. Adesso ci fermiamo per la serata. Direi il giusto premio, no? Il giusto premio, dopo tanta... Sudata, è stata sudata. Esatto, allora, va bene. Complimenti. Quanti eravate in gruppo? Penso una cinquantina. Eh, però, insomma. Cinquanta, mi dici. Cinquanta. Sì, sì. Va bene. Me lo confermano. Va bene, adesso alla spicciolata stanno arrivando, quindi c'è il buon cibo, ci sono i ciclisti, ci sono gli oggetti di artigianato, c'è il folklore, c'è naturalmente la crescita Sai Kukon, quindi Montegiano c'è. E si trovano anche stand con particolarità molto singolari come oggetti e giocattoli in legno che ormai non si trovano più. Sì. Come mai? Niente. È una passione da piccolino, l'ho portata anche da grande. Da grande, insomma, ti piace il legno come materiale? Molto, molto. Che cosa realizzi? Come vedi, di tutto. Tutto? Tutto. Giocattoli anche di una volta? Tutto, soprattutto i giocattoli per i bambini, il fucilino con la molletta, le spade, gli archi, le fionde, le pistole. Il fucile con la molletta, il fucile con la molletta, il fucile con la molletta, insomma, se lo ricordano in pochi, però, insomma, vediamo, vediamo, questo qui, guardate, a favore di camera, Fabio, guarda, la molletta proprio. La famosa doppietta. La famosa doppietta. Doppio elastico. Doppio elastico, bellissimo. Diciamo, i giochi di una volta, la fionda, la sfrombola, insomma, tutto oggetto. Che legno utilizzi? Beh, diciamo che utilizzi un po' tutto. Un po' tutto. Sì, anche legno pregiato, il castagno, la noce, cavalli, cavalli fatti in noce, noce nazionale. Cagina anche. Sì, cesti, l'intreccio dei cesti, l'imbaglio delle sedie. E poi ho visto che hai anche, insomma, riproduzioni di oggetti più particolari, come un torchio. Quello è un torchietto, quello è un torchio in miniatura. Torchio in miniatura. Sì, dove pressavano una volta il vino i vecchi condadini, io l'ho riprodotto da soprammobile. L'associazione culturale Montegiano c'è? Montegiano c'è, allora, c'è veramente. Direi di sì, il paesino è piccolo, insomma, è una frazione del comune di Monbaroccio, che per l'appunto si risveglia, no, per questo periodo, si attiva e riesce comunque a fare delle cose, direi, secondo me, buone. E i risultati sono sempre stati dalla nostra parte. L'abbiamo citato e visto nelle foto d'epoca il lavatoio, eccolo qua, siamo qui, è un lavatoio che, insomma, è la tradizione del paese. È stato riportato a nuovo splendore. Giusto, questo è appunto il vecchio lavatoio, qui era la fontana, diciamo, da dove arrivava l'acqua e poi da qui, dalla piccola vasca, passava poi alla grande vasca dove venivano lavati anche i panni di tutto il paese. Quindi le donne venivano qua proprio per lavare la propria biancheria e i propri indumenti. È stato ristrutturato da poco, ci sarà breve l'inaugurazione, e la ristrutturazione e il recupero è stato fatto grazie all'Associazione Culturale Memoria in collaborazione con il Comune. Quindi è un piccolo lavoro che però ci ridà una parte di storia del paese, del posto. Ecco, un motivo in più per venirlo a vedere, Montegiano, perché oltre, insomma, a Buon Cibo ci sono anche delle belle testimonianze del nostro passato, di quello che era la vita di un tempo, la vita nei campi, la vita contadina e i lavatoi, ce ne sono tanti sparsi nella nostra regione, ma questo è stato riportato al nuovo splendore per questa opera di recupero che così ci fa vedere da vicino come si viveva una volta. Ed ora parliamo con chi questa comunità la conosce dal profondo e con un'esperienza decennale. Quanti anni sono qui? Sono 49 anni e passa che siamo a Montegiano. Il primo luglio del prossimo anno, 2017, faremo 50 anni che siamo nella comunità di Montegiano. Quindi 50 anni di storia sono qui, lei li conosce? Li conosco molto bene perché molti ho visti nascere, crescere. Non parliamo di quelli che purtroppo muoiono anche, però una comunità viva, semplice, buona, accogliente e rispettosa con la quale si sta bene. La festa della Criscia Sei Cucco era la festa che si faceva a Montegiano un tempo, la prima domenica dopo Pasqua, ed era una festa molto paesana, con una cerimonia in chiesa, c'era una settimana di predicazione, si finiva con una processione e poi con le damigiane del vino e la Criscia davanti alla chiesa si mangiava e si beveva. Ecco questa è l'iniziativa. poi col passare del tempo è migliorata ed ecco quello che avete visto di sotto che è una splendida iniziativa coronata con la fatica e con tutti gli interventi del comitato della festa e che purtroppo meritava un bel sole. Noi il sole ce l'abbiamo dentro, la comunità di Montegiano se lo porta dentro. Il Montegiano è sempre vivo all'interno, piove fuori, il sole è dentro. Evviva Montegiano! Evviva Montegiano! Viva Montegiano! Viva Montegiano! Viva Montegiano! Viva Montegiano! Grazie.